Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non ha scelto un posto qualunque a Lichlein per iniziare il suo tour nelle Marche in vista della sfida con Bonaccini alla segreteria nazionale del PD. In primis la giovane candidata ha voluto fare tappa ad Arquata del Tronto e ha parlato così della comunità colpita dal forte sisma del 2016. Anzitutto che qui c'è una comunità resistente che in tutte le difficoltà che si sono trovati ad affrontare, spesso anche nella dimenticanza colpevole da parte dello Stato, perché c'è tanto ancora da ricostruire, ci sono pile di pratiche da affrontare e ancora non si vede una stabilizzazione del personale che è necessaria per dare una prospettiva al lavoro di ricostruzione, ma anche per dare una prospettiva alle famiglie delle persone che stanno affrontando questo lavoro. Quando si creano delle competenze su settori tecnici complessi come la ricostruzione è bene tenerle care, perché poi il turnover vuol dire ogni volta fare la fatica di dover formare di nuovo le persone. Qui chiaramente è stato fatto un buon lavoro dalle autorità, dal commissario, ma dal sindaco stesso, che con grande determinazione si batte tutti i giorni per affrontare le difficoltà, ma sono territori che non vanno abbandonati. Un'immagine, quella dei paesi ancora da ricostruire dopo il terremoto, che è quella di una sconfitta per il paese, ha detto la candidata DEM, accolta dal sindaco Michele Franchi. Ma sono convinto che Elli porterà una vendata di ottimismo e di rinnovamento nella sinistra italiana e soprattutto anche per queste zone. Queste zone sono martoriate, c'è bisogno comunque che tutti quanti ci ascoltano. Ma ora l'interlocutore principale è il nuovo commissario alla ricostruzione, il senatore Ascolano Guido Castelli, che seppur di fratelli d'Italia, è sempre stato molto vicino ad Arquata e non solo per distanza geografica. Ed è a lui che idealmente la Schlein rivolge una sorta di appello. Perché se devono ripartire, oltre al lavoro di ricostruzione, bisogna dotarli di risorse, di investimenti, di servizi soprattutto, perché sono terre che rischiano anche il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono. Non può essere così scomodo, diciamo, vivere qui se mancano servizi fondamentali da quelli appunto che riguardano i trasporti a quelli che riguardano la sanità. Poi per fortuna ad Arquata invece una risposta di cura c'è, che si rivolge anche ad altri territori circostanti. Ma così come l'istruzione, fortunatamente appunto c'è questa nuova scuola, per cui a me sembra una comunità che si sta battendo per ricostruire il proprio futuro e che va supportata pienamente in questo sforzo, anche attraverso le risorse che servono e che non devono mancare da parte del governo. Quindi io mi prendo volentieri l'impegno, questo giro lo facciamo con l'orecchio teso per terra per ascoltare i bisogni di queste comunità. Nel suo tour nel sud delle Marche, la Schlein ha fatto tappa anche ad Ascoli Piceno e nel Fermano, dove accompagnata dalla sindaca Mary Marziali, ha incontrato Don Vinicio Albanesi nella comunità di Capodarco, realtà impegnata a favore dell'inclusione sociale.